Ciao bambini! Come sapete da qualche settimana è primavera e anche sugli alberi sono sbocciati tanti fiori colorati. Perciò oggi facciamo insieme un albero della primavera davvero speciale. Ci servono fogli bianchi, quadratini o rettangolini di carta colorata o ritagliati dai giornali, dalle riviste, ma se non li avete potete ritagliare dei rettangolini e colorarli come preferite. Poi ci servono la colla e i pennarelli. Ora iniziamo! Per prima cosa realizziamo il nostro albero e sapete come facciamo a farlo? Con il nostro braccio. Prendete un foglio bianco e tracciate la sagoma di una parte del vostro braccio e poi di tutta la mano e poi la colorate di marrone. Adesso realizziamo i fiori per far sì che diventi proprio l'albero della primavera. Per fare i fiori prendete un quadratino di carta colorata, lo piegate a metà, poi la mamma o il papà disegnano dalla parte della piega una mezzaluna. Adesso ritagliate la mezzaluna, ma non con le forbici, la ritagliamo con le mani. Guardate come. Tengo forte e strappo lungo la linea curva che ho disegnato. Ecco qui, potete aprirla e guardate cosa otteniamo, un cerchio. Ricordatevi che per fare i fiori dovrete disegnare la mezzaluna di tre dimensioni diverse. Una mezzaluna grande, una mezzaluna media e una mezzaluna piccola. Così da ottenere un cerchio grande, un cerchio medio e un cerchio piccolo. Adesso componiamo i fiori. Riprendiamo il nostro albero, la colla e i cerchi. Prima di tutto prendiamo il cerchio grande e lo incolliamo su un ramo. Poi prendete un cerchio medio e lo incollate sopra il cerchio grande, in questo modo. Poi prendete il cerchio piccolo e lo incollate sopra il cerchio medio. Ecco qui il fiore. Cerchio grande, cerchio medio e cerchio piccolo. E poi continuate a fare gli altri fiori in questo modo, fino a quando l'albero sarà pieno di fiori. Come vedete io ho fatto anche la chioma. Prendete il pennarello verde e partite da un ramo e andate su, 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 questa linea continua che si ferma in un altro ramo. Fate attenzione che la linea non vada mai sopra i fiori. Guardate bene. Infine, con una linea che va su e che va giù, che va su e che va giù, fate il prato e lo colorate. Ecco qui finito il nostro albero della primavera davvero speciale. Sono curiosa di vedere i vostri alberi pieni di fiori. Un bacio.